Musica Lega Pro il Bubbio guarda la trasferta di Ancona, Maggi pensa a Petti o Calombo per sostituire lo squalificato Rinaldi. Serie B Perugia al completo in vista di Benevento, serie D mano pesante dell'udice sportivo sul Trestina. Basket a uno femminile, Umberti debatte Vigarano ma perde l'ala Bove operato al tendine d'Achille. Volley, Superlega Sir Perugia in campo domani con Ravenna. Tiro con l'arco, Leo Gubbina Benedetti racconta l'esperienza al Mondiale di Dublino. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva Lega Pro e Gubbio in apertura con la squadra Gubbina che continua ad allenarsi in vista della trasferta di sabato a Ancona. Sicuri assenti saranno gli infortunati Romano, Lunetta, Musto e Ferri Marini. Oltre a Rinaldi, squalificatelo per quattro turni da giudice sportivo. Per sostituire l'ex cuneo nel pacchetto arretrato sono due le principali opzioni per Mr. Maggi. L'inserimento di Petti al centro della retroguardia assieme a Burzigotti oppure lo spostamento di Marini in mezzo e alle conseguenze in nesso di Calombo. Il netto vantaggio su Pollace sulla corsia destra difensiva. A centrocampo invece si va verso la conferma del trio Croce-Valagussa-Giacomarro. Nonostante Conti sia la conferma sia un'alternativa più che valida con l'ex Casiraghi sulla tre quarti a supporto del tandem d'attacco composto da Ferretti e Candellone. Unici elementi offensivi a disposizione di Maggi assieme al classe 99 Tavernelli. Domani seduta pomeridiana, venerdì è prevista la rifinitura mattutina prima del trasferimento nelle Marche. Andiamo in serie B. Il Perugia si prepara al gran completo in vista della trasferta di sabato a Benevento. Ristabiliti i difensori Mancini e Delprete oltre all'esterno d'attacco Drolè che però potrebbe aspettare la gara interna infrasettimanale con il Carpi per ottenere la prima convocazione. A destra probabile staffetta tra Belmonte e Delprete. Mentre a sinistra Chiosa si gioca con Di Chiara una maglia da titolare. A centrocampo è possibile che Zebli impegnato con la B Italia ieri possa rifiatare a partire dalla panchina con Acampora favorito su Ricci per sostituirlo. In avanti si prospetta una nuova esclusione per Bianchi, contredente formato da Guberti di Carmine, d'uno tra Nicastro e Bonaiuto. Mano pesante sul Trestina ancora di calcio, parliamo da parte del giudice sportivo e siamo alla serie D. Squalificati fino al 2 di novembre i dirigenti, Cerbella e Magrini, mentre il centrocampista Vinagli è stato appiedato per due turni e sarà dunque costretto a saltare oltre al derby con il Sansepolcro anche la trasferta di Alba Longa. Entra in diffida invece Liurni, squalificato per una giornata anche il laterale difensivo del città di Foligno Calzola, assente dunque nella prossima sfida interna con la Nuorese. Entra in diffida il regista Giambi, mentre Guazzolini ritrova Catanese oltre ai recuperati Bagnetti e Mercai, in quello che diventa la partita più importante di questo inizio di stagione del Falco. Proprio la Nuorese sarà in campo domani sera alle Vuitone alle 20.30 per il recupero del terzo turno di campionato con il Sansepolcro che fu rinviato per impraticabilità del campo. Cambiamo sport e parliamo ora di Volley perché torna nuovamente la Superlega con il quarto turno di andata del massimo campionato maschile di pallavolo, un turno che si gioca infrasettimanale e che prende il via questa sera con i vari incontri in programma e terminerà domani con il posticipo delle Palle Evangelisti che vedrà in campo alle 20.30 la Sirce Feticonad Perugia e la Bungera Venna. Giocano per confermare la vetta della classifica i Block Devils del presidente Sirce al comando a punteggio pieno insieme a Civitanova dopo tre giornate. Sul fronte si è stetto qualche piccolo dubbio per Kovac con un paio di vallottaggi che riguardano chi inserire al via al centro tra Birarelli e Buti e chi utilizzare inizialmente in posto 4 tra Rassale e della Lunga. Poi spazio ovviamente alla diagonale De Cecco-Zaitsev a Podrascanin in zona 3, all'austriaco Berger in banda e dall'interscambio Bari-Tosi in seconda linea attesi. Il pubblico davvero delle grandi occasioni nell'impianto di Pian di Massiano con la prevendita che ha già fatto registrare numeri a dir poco importanti. Passiamo ora al basket e alla serie A1 femminile per fare il punto in casa Pallacanestro Umbertide, reduce dal primo successo stagionale con Vigarano reso amaro dall'infortunio però che costringerà per diversi mesi ai box l'ala Emilia Bove. Primo acuto stagionale per la Pallacanestro Femminile Umbertide, un grande successo che oltre a valore per la classifica alza vistosamente anche il livello di autostima e fiducia in se stessi che ci voleva dopo le due sconfitte con le quali si era aperta la stagione. Ma al tempo stesso Umbertide si può dire anche una squadra davvero sfortunata e il risultato questa volta non c'entra affatto. Quando mancavano 7 minuti e mezzo alla fine di un secondo quarto dove le Bianco Celesti premevano sull'acceleratore per recuperare lo svantaggio di punti da Vigarano, l'urlo che scuote tutto il palazzetto. Emilia Bove dopo un tentativo di tiro resta a terra dolorante e chiede subito i soccorsi dalla panchina. Il referto medico dopo tutti gli accertamenti del caso è davvero impietoso evidenziando una rottura del tennine d'Achille. Ieri l'operazione eseguita dal professor Caraffa perfettamente riuscita e che farà rientrare a disposizione della giocatrice intorno ai 4-5 mesi, magari in tempo giusto per il finale di stagione. Dopo quindi aver concluso i primi 20 di gioco sotto di tre punti, all'inizio del terzo quarto Umbertide trova la scintilla in grado di ribaltare la partita. Serventi si affida al vecchio Motto che recita la Mior difesa l'attacco. Vigarano non vede più palla né tanto meno costruisce gioco. Umbertide ne approfitta per stampare un break mostruoso 14-0 che mandava Moroni e compagni sul più uno. Dopo sei minuti dal terzo quarto si segnala anche il primo canestro delle padroni di casa. Anche Chiara Mallard aggiusta la mira e stampa 21 punti in 38 minuti. Clark e Brown non deludono le attese ed estraggono dal cilindro una gara con i fiocchi e la sfida scivola via liscia come l'olio sul 78-63 con il Palamorandi in festa e la dedica alla sfortunata Emilia Bove che lascia una coperta ancora più corta a coach Serventi in attesa di avere nuovamente a disposizione anche Alessia Cabrini, frenata da una tallonite ma sulla via del recupero. Alla società la facoltà di decidere se tornare o meno sul mercato mentre il coach Tiberino deve preparare il difficile impegno in casa della Dica e Napoli. Questi due punti erano veramente fondamentali portiamo a casa una partita in maniera meritata perché lo abbiamo voluto siamo state brave a recuperare lo svantaggio iniziale se non sbaglio di 8-9 punti e lì insomma siamo state brave a rimanerci in difesa, a lottare su ogni pallone in campo veramente riuscivamo a muoverci tutte in maniera giusta se una sbagliava l'altra andava a coprire l'errore della compagna andavamo tutte a rimbalzo insomma siamo state un gruppo oggi. Chiudiamo con il tiro con l'arco perché recentemente Chiara Benedetti atleta della compagnia Arceri Ugubini è stata protagonista in terra irlandese della rassegna mondiale di tiro di campagna. Allora sentiamo il suo racconto nel nostro servizio. Ribalta mondiale per Chiara Benedetti nativa di Genova ma tutti gli effetti è Ugubina per origini ed appartenenza capace di raggiungere con la squadra nazionale arco nudo femminile il quattordicesimo posto finale ai mondiali di tiro di campagna che si sono recentemente svolti a Dublino. Grande soddisfazione sia a livello personale ma anche per l'accompagnia Arceri Ugubini ulta quarantennale società divenuta vero e proprio punto di riferimento a livello regionale e capace di crescere talenti cristallini della disciplina nel corso degli anni tra cui spiccano appunto l'arco e le frecce di Chiara Benedetti. È stata una grande soddisfazione perché comunque sono solo due anni che io pratico il tiro di campagna che è appunto la specialità che abbiamo disputato a Dublino e è arrivata la convocazione ad agosto insomma io penso che per un atleta rappresentare la propria nazione a un mondiale sia l'aspirazione più grande. È stata un'esperienza veramente incredibile, giornate meravigliose, un panorama fantastico perché comunque la specialità che io faccio che è il tiro di campagna si svolge in un percorso nel bosco e sono 24 piazzole con distanze sconosciute e noi insomma giriamo e andiamo a tirare tutte queste piazzole e insomma l'Irlanda è sicuramente uno scenario spettacolare da questo punto di vista. Sono partita come diciamo l'unica alla sua prima trasferta, gli altri ragazzi in squadra erano tutti navigati insomma di trasferte quella nazionale, per me era la prima e ho fatto il mio record personale quindi insomma penso che meglio di così non potevo andare e mi sono qualificata quarta nella gara di qualifica e poi dodicesima assoluta a livello mondiale io penso che più di così non avrei potuto proprio chiedere. Termina qua l'appuntamento con l'informazione sportiva, vi ricordo che però l'informazione prosegue ancora targata TRG, rimanete sintonizzati con noi. Domani mattina poi dalle 7.30 di nuovo la rassegna stampa, il sito di riferimento è www.trgmedia.it per essere aggiornati in tempo reale, news, rivedere servizi, approfondimenti, tg sport e seguire streaming la programmazione del canale 11, grazie e buona serata.